Sono Michelangelo Di Toma, vi introdurrò nel mondo di Wilson & Morgan in una categoria di whisky molto particolare. Si chiama Special Release. Il mondo di Wilson & Morgan è un mondo di imbottigliatori privati, un imbottigliatore privato, Fabio Rossi, che nelle sue ricerche, nelle sue selezioni, decide e stabilisce quali botti di quali distillerie prendere e portare ad invecchiamento. Le acquista, le lascia ad invecchiare e quando arrivano a piena maturazione, a quel punto le riprende, le imbottiglia e le mette in commercio. Ci dà l'opportunità di poterle acquistare. Nella ricerca, Fabio Rossi va ovviamente a selezionare quelle particolari botti, quelle particolari distillerie, che hanno la possibilità di esprimersi al meglio nei loro rilasci particolari, Special Release. Niente di meglio di Morlac, il whisky di questo momento, di questa occasione speciale. E qui siamo di fronte veramente ad un'occasione speciale. Morlac è di proprietà di una multinazionale e per molti anni questo whisky non è stato rilasciato dalla distilleria con la sua vendita in single malt. Quindi non c'è stato nessun rilascio di questo whisky. Morlac era utilizzato per il blended di questa grande multinazionale. Ovviamente era una componente estremamente importante. Ci sono delle distillerie, Morlac, Portellen, Caulila, che per il loro nome e la loro fama, Brora, sono diventate famose nel corso del tempo, perché queste distillerie sono il cuore pulsante delle più alte espressioni dei whisky blended. E i whisky blended sono i whisky più venduti al mondo. Poi queste distillerie, le multinazionali proprietarie di queste distillerie, decidono qualche volta di avere dei rilasci, quindi di presentare al pubblico delle tirature limitate che esprimano queste particolari distillerie. Ci troviamo di fronte a una distilleria che per quello che mi riguarda almeno è stata una leggenda. Nel corso della mia esperienza lavorativa ho avuto modo di vedere la multinazionale per cui lavoravo che rilasciava la prima edizione di questo whisky come single malt. Fino a quel momento non c'erano single malt di questa distilleria. Nel mio catalogo, nel mio portafoglio, questa distilleria era la distilleria il cui whisky era più caro in assoluto tra tutti i whisky che io avevo a disposizione. Per me è diventato un mito. Nel lancio di questo prodotto alla multinazionale utilizzò molti elementi, diciamo così, di marketing, quindi molti elementi di pubblicità, delle foto di epoca, dei librettini che facevano vedere il lavoro che veniva fatto tanti anni fa in questa distilleria. Questo per riportarci alla natura delle distillerie e del whisky di malto. I single malt appartengono alla storia, alla cultura e alla tradizione di un popolo. Conosco i single malt da tanti anni, quasi 40 anni, e probabilmente alcuni di voi quando io assaggiavo e degustavo questi whisky non erano ancora nati. Questa sera Mortlack, special release. 23 anni, single malt, distillato nel 1997. Qui abbiamo una traccia in più di questa special release, ovvero abbiamo la traccia della botte. Devo dire che questo compare spesso in Whitson & Morgan, ma nelle edizioni speciali, nel barrel selection, ovviamente la tracciabilità è un elemento estremamente importante. Arricchisce con qualche informazione in più rispetto al whisky. Gradazione alcolica 56 gradi, castrem, vuol dire così come il barile ce l'ha data dopo 23 anni. È un whisky molto strutturato. Siamo nel distretto dello Speyside. Abbiamo imparato che nel distretto dello Speyside i whisky hanno sempre una loro corposità, una loro struttura, un loro modo di essere particolare. Bene, questo whisky così strutturato, così particolare, è un whisky che immediatamente ci coinvolge. All'olfatto, i 53 gradi, innanzitutto il colore di questo whisky. Guardate con che colore carico, così scuro si presenta. Una espressione particolare di questo whisky ce la dà il profumo, 53 gradi, ma quasi sembra non sentire l'alcol. Qual è il momento giusto, l'occasione speciale? Questa è proprio veramente un'occasione speciale. Perché ci troviamo di fronte ad un whisky, lo vedete anche dall'elegante confezione, molto particolare. Una rarità. E come tutte le rarità, a questo punto, si usa la parola abusata, in alcuni casi, da meditazione. Sentiamone il profumo, ma visto che l'alcol comunque si fa sentire, soffiamo nel bicchiere e tiriamo su con il naso. Questo era un po' un trucco che vi ho insegnato, che vi ho raccontato in queste puntate. Facendo in questo modo, l'alcol si sposta, si muove all'interno del bicchiere, riesco a sentire meglio i profumi. E a questo punto, andiamolo ad assaggiare. Immediatamente l'imponenza, l'importanza di questo whisky, si fa subito presente nella nostra bocca, nel nostro palato. Secco e asciutto all'impatto, però subito dopo la frutta secca che si fa avanti. E insieme della ciliegia, molto matura e della vinosità, come fosse dell'uva passa, come fosse dello sherry. Ecco, quest'impressione che io ho in questo momento nel palato mi conquista, mi scalda. Per parte questo alcol risulta essere anche un pochino ruvido nel gusto, nell'espressione, nel modo di essere. Ma io comunque ho bisogno di questo dialogo, ho bisogno di questo momento, ho bisogno in un momento speciale, in un'occasione speciale, della mia giornata, di essere con il mio whisky. Ma sentite adesso le intensità e le note che vengono fuori. Non c'è torba, eppure ho la sensazione in bocca come se avessi delle foglie di tabacco, delle sensazioni legate alle foglie di tabacco, al vegetale, alla frutta, alla frutta piena, alla frutta matura. è un whisky che mi regala in ogni momento, in ogni antitimo, in ogni minuto che passa, una sensazione nuova. La parte dell'alcol piano piano è svanita nella bocca e adesso emergono tutte quelle che sono le caratteristiche di questo whisky, Morlac, 23 anni. Veramente un'occasione speciale, veramente un'occasione particolare per questo whisky. questo è il momento migliore per me per poterlo degustare. Con attenzione. L'alcol è sempre piuttosto evidente, ma mai aggressivo, mai forte. Almeno nel mio bicchiere mi lascia sentire dei profumi. Ovviamente per tutti quanti noi, anche per me, certe volte c'è bisogno di alleggerire questa tensione determinata dall'alcol. Soffio nel bicchiere, tiro su con il naso e ecco come i profumi sanno manifestarsi al meglio. Un altro piccolo sorso di questo whisky così bello, così intenso, anche perché so che ogni sorso mi regalerà dei profumi e delle sensazioni e degli aromi particolari. Ecco che questa aggressività dell'alcol passa con il secondo assaggio e vengono fuori delle note di miele e delle note gustose di cera d'api e delle note di legno e delle note di cereali ma di frutta di frutta secca di frutta fresca intensa quasi sembra venire fuori delle note di frutta tropicale ma è una mia impressione è soltanto una mia idea legata al momento particolare all'occasione questa in cui sto degustando insieme a voi questo whisky. Ecco come i whisky sanno essere il giusto accompagnamento un sigaro perché no abbinarlo con un sigaro ci starebbe bene del cioccolato sicuramente magari del cioccolato fondente 70% non andrei mai oltre il 70% per quanto riguarda il cacao il cioccolato la percentuale di cacao nel cioccolato perché se è troppo invadente il cacao poi alla fine non riesce a darmi le giuste sensazioni a me verrebbe in mente anche di abbinarlo con un cioccolato che abbia per esempio delle mandorle delle nocciole perché la frutta secca è piuttosto evidente in quello che io sento bene questo è il momento speciale la mia occasione speciale per questa special release un momento importantissimo tanto quanto è importante questo whisky già da come si presenta ma poi nel bicchiere rende sicuramente merito a quello che noi abbiamo appena sentito slanjova alla salute grazie a tutti